buongiorno benvenuti ben ritrovati amici alla rassegna stampa di radio piave in blu condotta dai giornalisti dell'amico del popolo oggi è martedì 10 novembre e luigi guglielmi vi guida nella lettura dei principali dei principali temi come al solito questa rassegna la potete ascoltare la state ascoltando amici di radio piave sulle nostre frequenze radio ma la potete vedere anche poi in versione video appunto sul sui nostri social facebook e youtube per vedere i titoli di cui parliamo su facebook vi raccomando se la rassegna vi piace se questo è un prodotto che facciamo che vi soddisfa metteteci un like condividetela anche perché è un modo per noi per vedere che oltre oltre ai dati sulle visualizzazioni che sono sempre altissime è un modo per noi per capire per vedervi per così intreccare un legame anche con voi e proprio perché siamo una provincia piccola con molti legami diretti oggi vorrei anche fare un saluto e cominciare con questo se mi permettete vorrei salutare le persone che ci seguono che sono in quarantena sono tantissime le persone costrette a casa da questo virus che non potendo lavorare e nell'obbligo di dover restare a casa perché sono state in contatto con un positivo o perché esse stesse sono positive magari non malate insomma o anche malate ci seguono e hanno più tempo per farlo e quindi stanno con noi vogliono vedere di che cosa parlano i giornali a voi tutti che attraversate un periodo comunque di sofferenza ecco un saluto particolare e un abbraccio insomma buona rassegna anche a voi allora vediamo i titoli il corriere delle alpi oggi partiamo con il corriere delle alpi che apre con una notizia positiva è la notizia che sapete tutti ormai perché ieri l'informazione è circolata molto veneto confermato in fascia gialla però c'è un però troppi vincoli lo sci è in pericolo queste sono due titolo a due righe un titolone a due righe che occupa tutta la giustezza cioè tutta la larghezza della pagina che ci porta una notizia buona e una un po così così ma è logico che sia così così è logico che i timori siano grossi per quanto riguarda lo sci e ci aggiungiamo che tra poco ormai febbraio a cortina si svolgeranno i mondiali di sci capite con quanta preoccupazione ci si avvicini a questo evento tra l'altro comunque il sommario di questo titolo veneto confermato in fascia gialla troppi vincoli lo sci in pericolo è questo il comitato tecnico scientifico detta un rigido protocollo agli impiantisti l'apertura potrebbe slittare a natale capite tutto questo che cosa significhi per noi d'altra parte rendiamoci conto che siamo in una situazione in cui in italia ci sono regioni in fascia rossa in fascia arancio nelle quali non si può spostare neanche da comune a comune altro che sport voglio dire altro che piste altro che sci purtroppo siamo in emergenza insomma ieri il primario del pronto soccorso dell'ospedale sacco di milano una donna si chiama brambilla questa dottoressa intervistata dal corriere della sera diceva guardate che questa è una guerra dovreste venire in ospedale per capire cosa significa il coronavirus c'è gente che invece la prende un po troppo allegra tuttora dunque allora andiamo a vedere quali sono gli altri titoli su questa prima pagina del corriere la foto prima di tutto vedete vedrete chi potrà poi seguire su facebook questa nostra rassegna ma soprattutto vedrà chi acquisterà il corriere delle alpi perché vi raccomando acquistateci se no noi giornali non possiamo fare questo lavoro c'è la foto di una persona di un addetto alla sanità in un drive in che sta preparando il tampone c'è una macchina con dentro persone sedute davanti e dietro i volti oscurati ovviamente e c'è un alpino c'è un alpino al tavolino dove vengono presi i dati mentre la persona addetta esegue il il test rapido il titolo è questo il settimo alpini al drive in di feltre fa 358 tamponi in un giorno ecco questo ci dice della della dell'iniziativa insomma che è scattata di coinvolgere gli alpini nelle procedure di esecuzione dei tamponi rapidi che sono un un'importante indicazione diciamo di una certa affidabilità però dal punto di vista della prevenzione sono un elemento importante ecco gli alpini sono stati coinvolti in questo operato leggiamo le altre notizie della prima che riguardano ancora il covid il bollettino sono quattro i decessi registrati in un giorno ieri non bene i dati in provincia di belluno per niente bene perché sono morte quattro persone noi dobbiamo sempre ricordarsi questi morti che sono morti a causa del coronavirus mettiamolo bene in chiaro magari con altre patologie ma il motivo per cui alla fine tutto il sistema del fisico crolla è che arriva il coronavirus questi quattro morti di coronavirus registrati in un giorno solo ci impongono un moto di così di 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 lutto di vicinanza di condoglianze alle famiglie un pensiero per queste persone anche per le per le condizioni di isolamento in cui sono morte in ospedale no 4 decessi 153 positivi nelle ultime 24 ore questo è il dato della provincia di belluno di ieri l'epidemia di coronavirus sta battendo ancora forte ancora perché perché nonostante le misure di contenimento sicuramente i dati sono ancora in crescita vedremo dopo anche i titoli sulla preoccupazione del nostro direttore generale dell'ulsa case di riposo sotto organico così le rette saliranno c'è l'SOS del personale se continua così a noi delle case di riposo non rimarranno più infermieri l'allarme arriva dalla serza di belluno e poi c'è un'intervista bella a bottacin l'assessore regionale la sanità bellunese è un virgolettato quindi queste sono parole sue la sanità bellunese è già infatti è in fascia 4 per i ricoveri la sanità bellunese in fascia 4 su 5 per i ricoveri ospedalieri lo spiega l'assessore regionale bottacin e l'intervista è di irene aliprandi vediamo altri titoli in testa sulla sinistra quindi in apertura del giornale la regione assembramenti e folla in montagna zaia prepara un'altra stretta assembramenti ovunque anche in montagna grandi catene aperte zaia prepara un'ordinanza per stringere perché la situazione è preoccupante dove in giro si vede tanta gente che vuol dire tanto contagio la ricerca pizzer la grossa azienda produttrice di farmaci il nostro vaccino è efficace al 90 per cento l'annuncio fa sperare il mondo il vaccino pizzer biontech alla fase finale della sperimentazione pare sia l'articolo dice è efficace al 90 per cento quindi funzionerebbe così annuncia l'azienda americana bene questo annuncio fa sì che ieri le borse abbiano avuto un contraccolpo positivo con milano che ha chiuso addirittura con più 5 per cento perché l'annuncio che si sia trovata una possibile soluzione a questa pandemia almeno per chi potrà permettersi il vaccino parliamoci chiaro ecco fa subito rasserenare l'orizzonte dei mercati e prevedere una possibile uscita da questa situazione drammatica in cui ci troviamo tutti il commento servono test molto rapidi e più precisi ecco qui vi dicevo prima la foto si riferisce appunto ai test rapidi eseguiti in questo caso al drive in di feltre test rapidi che ci danno un certo margine di sicurezza ma non sono sicuri e non sono neanche rapidissimi ma insomma li possiamo considerare rapidi un quarto d'ora non è nulla però giustamente il commento dice bisognerebbe avere test più precisi poi tutt'altro tema finalmente una notizia positiva la diamo volentieri la evidenziamo anche la vedete qui ecosistema ecosistema urbano belluno scala la classifica dei capoluoghi più green cresce la percentuale di raccolta differenziata raddoppiano i metri quadri di ciclabili l'uso del suolo diventa più efficiente belluno è una città sempre più green secondo la classifica ecosistema urbano di lega ambiente pubblicata dal sole 24 ore e qui l'approfondimento è a cura della collega alessia forzin che salutiamo anche dalla nostra rassegna stampa ciao alessia cortina mondiali 2021 consegnato il cantiere della cabino via di son dei prade anche questi sono dei passi avanti che in tempi non di covid avremmo salutato avremmo approfondito con grande attenzione perché si tratta di una svolta per l'offerta turistica dell'inverno ma anche dell'estate di cortina con un impianto discusso discutibile che però farà darà un po una svolta perché consentirà sostanzialmente di raggiungere il falzare o con ai piedi gli sci o comunque lasciando l'estate insomma con la bicicletta lasciando a casa la macchina e quindi insomma dovrebbe avere un impatto questo nuovo impianto anche sulla mobilità generale che riguarda i grossi flussi tra cortina centro e l'area del falzarego il titolo è questo consegnato ieri mattina il cantiere per la nuova cabino via che collegherà by the dones alle cinque torri con son dei prade a pocol l'opera rientra nel terzo livello del piano di infrastrutture previsto per i mondiali 2021 allora il primo step è arrivare a by the dones dove parte l'impianto già esistente che sale alle sotto le cinque torri praticamente e qui lo descrivono da nord insomma no e con il collegamento con pocol che invece è avete presente insomma appena sopra cortina sostanzialmente dove si potrà poi interagire con altra impiantistica della conca d'ampezzo allora il titolone di pagina 2 svolta nella lotta al covid il corriere delle alpi punta in apertura dello sfoglio dedicato al coronavirus punta sulla notizia positiva che arriva no perché perché questa è la notizia insomma che campeggia su tutti i giornali ovviamente ripeto che ha fatto addirittura un rimbalzo sulle borse svolta nella lotta al covid il vaccino efficace al 90 per cento corsa per accaparrarselo eccola qui adesso quale sarà la sfida no bisognerà capire quanti potranno averlo questo vaccino l'annuncio del gruppo americano Pfizer o Pfizer a seconda di come lo si vuole pronunciare e le borse mondiali festeggiano l'Italia pronta a prenotare ad acquistare 40,8 milioni di dosi ma manca il piano per la distribuzione ecco purtroppo in Italia ormai insomma non è questione di essere filogovernativi o antigovernativi eccetera l'abbiamo detto per la scuola lo dobbiamo dire per i trasporti lo possiamo dire per l'organizzazione anche dei vaccini antipunerali dove va bene c'entrano anche il governo delle regioni insomma ma la filiera del governo in questa situazione non si è dimostrata al massimo perché sono stati sprecati soprattutto i lunghi mesi estivi nei quali sarebbe stato programmabile tutto per dire per dirne una la faccenda delle fasce colorate che probabilmente sono un è un sistema anche che ha delle possibilità di funzionare importanti perché non vuol dire lockdown per tutti vuol dire lockdown mirati è ovvio che doveva essere decisa prima non poteva essere non può essere stato avviato un sistema del genere che adesso subisce perfezionamenti e ritocchi alcuni vengono richiesti con forza altri insomma sono già stati attuati per far sì che funzioni un sistema mentre l'epidemia è probabilmente verso il culmine bisognava deciderlo prima si sarebbe dovuto decidere prima andiamo avanti con la lettura dei titoli allora parla la l'immunologa di padova viola prudenza non è finita ora la sfida la distribuzione e parliamo ancora del vaccino ristori pronto il decreto aiuti e sconti a 130 settembre dice il corriere delle alpi pagina 4 toscana e altre regioni vanno in zona arancione ispettori in campania questa cartina ci farà compagnia perché perché ci dice settimana dopo settimana come sta andando il virus e quali sono le zone che via via diventano più gravi oppure che ritornano in situazione di sicurezza allora la scorriamo velocemente vedete che tutto il nord si conferma si conferma tutto il nord nord ovest si conferma rosso adesso è stata aggiunta anche la liguria che in fascia arancia insomma non è gialla mentre le raccontiamo il nostro veneto il friuli venezia giulia il trentino solo il trentino non all'alto adige e l'emilia romagna sono le aree che rimangono gialle nel nord tutta la parte del nord est insomma giallo anche le marche mentre scivolano in arancio toscana umbria abruzzo puglia è arancio basilicata è arancio della campania ancora non si sa potrebbe diventare rossa da gialla rossa addirittura rossa è la calabria arancio è la sicilia ecco questa è la situazione sardegna lazio molise che forse prima non avevo detto rimangono in fascia gialla cioè la fascia più bassa pur se toccata dal rischio quindi costretta a una serie di misure di cautela andiamo avanti pagina 5 zampa presto le regole di natale cenone solo con i parenti stretti capite avevamo detto che si poteva forse pensare di fare qualcosa per natale adesso visto l'andamento si comincia già a dubitare che a natale saremo in una situazione migliorata e comunque sarà molto prudente giusto o forse anche doveroso perché forse se lo imporrà la legge non incontrare altra gente per il cenone se non i nostri familiari stretti parla infatti il sottosegretario del ministero della salute i cittadini potranno vaccinarsi entro l'estate i medici di base sono tenuti a fare visite e tamponi questa dell'estate mi sfugge bisognerebbe leggere tutta l'intervista nel dettaglio non l'ho fatto chi viene meno rischia la convenzione rischia risaltargli la convenzione i medici devono fare le visite e i tamponi i medici di base dice il vice ministro sostanzialmente sandra zampa cade l'ultima resistenza nella scuola mascherina anche a sei anni d'altra parte anche i bambini sono contagiosi è logico che in una situazione io credo che sia inutile far finta che noi ci troviamo in una situazione di normalità ce lo dicono i numeri ce lo dice la situazione gli ospedali sono in sofferenza serissima si fa fatica a garantire le cure base è inutile che facciamo finta che la situazione sia normale e che ci illudiamo di poter continuare a portare avanti in modo normale le nostre attività compreso la scuola probabilmente si tratta se non sarà un lockdown totale sappiamo che abbiamo bisogno di fare un sacrificio importante non perché ce lo chiede il governo non perché siamo sotto dittatura o sciocchezze di questo genere andate negli ospedali parlate con chi lavora in ospedale fatevi dire com'è la situazione in ospedale e vedrete che c'è ben poco spazio per immaginarsi scenari di complotti dietro quello che sta succedendo il titolone di pagina di pagina 6 del correre delle alpi che apre con una fotografia con tanta gente che si tratta della folla di clienti in attesa in un centro commerciale ecco tante tanta gente il titolone è questo il veneto resta giallo e sfugge al lockdown ma zaia è furioso piazze gremite basta in vista un'ordinanza su outlet e parchi commerciali oggi confronto con i sindaci per scongiurare la ressa nei luoghi pubblici vedremo che zaia se l'è preso anche appunto con gli assembramenti in montagna lasciamo questa notizia andiamo avanti sfida a roma test rapidi nel conto tamponi e davanti agli ospedali rispuntano le tende allora sono due notizie che riguardano il veneto il veneto vuole correggere l'indice di contagio correggere è messo tra virgolette nel senso che chiede a roma di considerare sapete che sono 21 i parametri che che determinano l'appartenenza alla fascia arancio gialla oppure rossa ecco tra questi parametri c'è anche il numero di tamponi fatti c'è il numero di posti letto disponibili cioè come il sistema sa rispondere all'emergenza bene il veneto dice dovete contare non solo i tamponi molecolari ma anche i tamponi antigenici cioè quelli rapidi che vengono fatti nei drive in e davanti agli ospedali rispuntano le tende perché si tratta di tende riscaldate che la protezione civile regionale è in grado di mettere a disposizione per allargare la capacità degli ospedali perché come ci diceva il l'assessore regionale giampaolo bottacini un altro giorno nella nostra intervista il problema questa volta almeno finora non sembra essere quello delle terapie intensive doveppure abbiamo diversi ricoverati in provincia di belluno ma il problema del ricoveri nei reparti normali cioè nelle persone che sono in area critica che che ne dica la regione e l'ulss che dice che nei comunicati assegna questa gente all'area non critica si muore in questi reparti quindi vuol dire che l'area è critica e come ecco ma non è terapia non è terapia intensiva nelle zone di non terapia intensiva nei reparti normali nei reparti covid interni agli ospedali negli ospedali di comunità i posti si stanno riempiendo troppo velocemente ci si prepara con delle tende riscaldate per la formazione dei medici covid la now è la protesta dei medici la regione usa i tutorial su youtube questo l'oggetto della protesta allora c'è ci sono delle ma c'è l'intervista a massimo galli che abbiamo visto in tv mille volte ordinario di malattie effettive a milano non riesco a comprendere le posizioni del professor palù insomma le polemiche non fanno mai bene però è chiaro che questo professore emerito di padova che pur essendo un illustre pensionato continua a imperversare e zaia di da molto credito insomma palù ha delle posizioni che sono state interpretate sono interpretabili anche come così un invito a prendere le cose non troppo seriamente non troppo non seriamente insomma non con la dovuta attenzione ecco insomma un po sminuisce galli dice questo il titolone di pagina 8 è questo le piatte piene non vogliono capire che contro il virus siamo in guerra era l'espressione che dicevo ieri usava anche il primario del pronto soccorso dell'ospedale sacco di milano se l'intervista sarebbe interessante leggerla noi ovviamente non abbiamo il tempo per poterlo fare ve la segnalo appunto sul corriere delle alpi se avrete voglia di acquistarlo oggi dunque un titolone abbastanza tranquillizzante no ve lo leggo lo scienziato dai bull all'apertura del festival della salute globale arriverà un'altra pandemia dobbiamo essere preparati e purtroppo queste cose insomma ce le dice anche ilaria capua dobbiamo la nostra grande scienziata che lavora in america dobbiamo essere preparati perché probabilmente faremo i conti ancora con situazione di questo tipo e dobbiamo essere pronti gli alpini partono con il botto 358 tamponi dicevamo all'ospedale di feltre e il racconto di un paziente questo sarebbe veramente da da leggere anzi sapete cosa facciamo ve ne leggo un po perché merita si tratta di una persona che ha svelato la propria identità si chiama gabriele noro e dice questo venite in ospedale due ore poi non negherete più eccolo qua allora il questo racconto dice dice questo a 60 anni i negazionisti vorrei che venissero in ospedale restassero al mio fianco un paio d'ore alla fine penso che cambierebbero idee il pensiero di gabriele noro è visibile sulla sua pagina facebook lo ha condiviso anche lo pneumologo ieri spiridione della lucia confermando la validità insomma salutiamo appunto anche il dottor spiro che tra l'altro in prima linea essendo in pneumologia appunto il pensiero di gabriele noro è visibile sulla sua pagina facebook lo ha scritto direttamente dal suo letto della pneumologia dove è stato ricoverato alla fine di ottobre non sono un commentatore seriale scrive noro chi mi conosce sa che sono un ottimista in questo momento vi sto scrivendo da un letto della pneumologia di belluno ho cominciato a star male con febbre il 28 il 24 ottobre e dal 26 trovato positivo al covid sono passato all'isolamento casalingo dall isolamento casalingo al ricovero ospedaliero di sabato 31 ottobre quindi i primi sintomi 24 il 31 in ospedale con una escalation di sintomi e complicazioni tali che solo per il rotto della cuffia non sono finito in terapia intensiva racconta ancora noro ho temuto per la mia vita fino a qualche settimana fa sono sempre stato bene ho compiuto 60 anni il 23 ottobre non si tratta di una persona anziana il racconto del paziente di pneumologia prosegue a ciò si va a sommare l'angoscia che una cosa simile possa capitare un tuo familiare cosa speriamo non succeda neanche a un estraneo ma chiaramente l'angoscia la provi per la tua famiglia oggi sono contento perché non sono peggiorato e questo va inteso come un segnale positivo sono confinato tra il letto con un paio di respiratori sempre attaccati e una comoda dove si svolgono tutte le altre attività fisiologiche ecco sottolinea noro io alle persone che negano questa malattia che per fortuna colpisce in modo diverso e meno grave tanta gente dico di trascorrere solo un paio d'ore qui con me senza star male ma solo per aiutarmi a gestire la vita quotidiana credo che queste persone non negherebbero più nulla questa malattia ti toglie anche parte della tua dignità però fortunatamente il personale sanitario ti dà una mano tale e senza mai metterti in imbarazzo che ti fa pensare che prima o poi questa malattia sarà sconfitta ma per poterlo fare al meglio la prima cosa è non negarla mi sembra significativo no i dati di ieri quattro decessi in un giorno 153 positivi siamo a 112 ricoverati in provincia di belluno ecco questi sono i numeri che fanno paura poi si passa all'intervista a giampaolo bottacin bottacin i ricoveri sono già in fascia 4 ma il sistema sanitario regge l'assessore regionale fa il punto degli ospedali bellunesi terapie intensive in fase 3 meglio che nel resto del veneto questa è la situazione bellunese vista dal punto di osservazione del responsabile della protezione civile che poi sapete è il referente per i dati per i controlli per la gestione non sanitaria insomma diciamo dell'emergenza ma fianco a fianco con la sanità come sappiamo bene come abbiamo imparato a capire no dunque la sospensione delle visite le associazioni protestano così non si curano le persone guardate questa è una cosa veramente brutta la sto toccando con mano per una vicenda di famiglia sono state sospese le visite come sapete da oggi e arrivano le disdette si tratta di situazioni non gravissime magari ma che possono essere veramente importanti anche di salute no e tutto viene rimandato non si sa quando le persone sono costrette ad arrangiarsi come possono a cercare soluzioni diverse e questo è un dramma piccolo e grande se le patologie sono importanti che è causato proprio dal fatto che gli ospedali sono da oggi completamente dedicati alla cura del coronavirus salvo le urgenze più gravi che vuol dire rimandare piccoli interventi chirurgici rimandare le visite ecco questa è una situazione veramente grave forse inevitabile non è tanto una critica all'organizzazione sanitaria ma è una critica semmai a tutti noi che abbiamo ci siamo comportati con troppa leggerezza alla politica che non ha saputo organizzare le situazioni sos personale nelle case di riposo l'ulsa ci aiuti o le rette saranno questa l'altra notizia di cui avevamo letto il lancio due ospiti positivi alla gaggialante sono stati isolati nel centro diurno bravi quelli della gaggialante che sanno anche gestire i grandi spazi che hanno a disposizione ma non dappertutto è così la gaggialante d'altra parte trema quando pensa alla quantità di ospiti che ha sono tantissimi e se le percentuali di diffusione del virus dovessero diffondersi questo diventerebbe un reale problema speriamo che ciò non accada l'ordine dei medici bellunese umberto rossa dice no al lockdown mentre a livello nazionale l'ordine dei medici dice sì al lockdown e vai con le solite contraddizioni che fanno così bene all'informazione della gente no tampone rapido per lavorare post quarantena sono le richieste della camera di commercio plasma iper immune c'è l'invito alla donazione chi è stato positivo si faccia avanti positivo un dipendente del comune di valle isolato il sindaco hofer mariana hofer che purtroppo risente di questa situazione troppi vincoli per le piste da sci l'apertura potrebbe slittare e non è un termine fuori posto visto che si parla di sci la battuta potrebbe slittare a natale eccolo qui il titolo di zaia che dice così il monito del presidente zaia imbarazzanti le foto dei pienoni sul neve gal il governatore veneto ha focalizzato la sua attenzione sui tanti visitatori domenicali della montagna bellunese così non va serve rispetto sono imbarazzanti le foto di piazze strapiene del neve gal dove si vive come se non ci fosse un domani parole del governatore veneto luca zaia durante la consueta conferenza stampa quotidiana domenica in sul consiglio c'erano più di 10.000 auto e ieri lunedì alcune centinaia quando di solito l'altopiano in novembre non ha proprio nessuno è un paese che va avanti così per aspetti per certi aspetti noi ristoratori siamo soddisfatti commenta angelo beghetti che gestisce la campana la capanna genziana ma abbiamo il terrore che gli assembramenti ci riservino qualcosa di brutto servirebbe una vigilanza adeguata ecco torna il tema della vigilanza che è veramente troppo scarsa basta girare per belluno si vedono gruppetti di persone tranquillamente senza mascherina soprattutto giovani ma non solo e nessuno che giri per insegnare come si fa o magari anche per mollare qualche bella multa che ci starebbe del tutto allora io arrivo giusto la pagina belluno per farvi vedere con che cosa apre il fascicolo bellunese ma poi volevo mostrarvi velocemente anche il gazzettino come facciamo sempre eccola qui belluno gestione dei rifiuti ambiente mobilità rendono il capoluogo sempre più green questa è il tema con cui il correre delle alpi sceglie di aprire oggi vi dicevo del gazzettino la pagina di belluno porta questo titolo ospedali sotto pressione altri quattro morti come dicevamo è la situazione bellunese questa c'è una foto di un pallone in prima pagina con pallone a calcio con la mascherina un pallone che indossa la mascherina e il titolo è questo tutti i contagiati noi unici in italia palloni fermi e con la mascherina come i calciatori in provincia il caso più clamoroso resta quello del san giorgio sedico almeno 25 casi di positività tra giocatori dirigenti e staff tutti contagiati un caso unico in italia dice il tecnico tiozzo finché ci scherziamo sopra o più o meno insomma ci scherziamo speriamo insomma che le cose non portino conseguenze più gravi se non la necessità dell'isolamento belluno padre negazionista tensione alle gabelli mio figlio non indosserà nessuna mascheria attimi di tensione ieri mattina alle primarie gabelli di belluno dove un papà pretendeva che il suo bambino un alunno di dieci anni entrasse a scuola senza il dispositivo di protezione individuale come previsto dalle norme vigenti la tensione sfociata in una vera propria rite e la preside ha chiamato la polizia l'uomo non si è convinto e ha riportato a casa il bimbo questi spettacoli sono pietosi anche perché comportano uno stress psicologico enorme per i bambini almeno facciamolo per i bambini le aziende affrontare sub affrontare un focolaio il caso della caffiero ecco si parla appunto dal punto di vista delle aziende su come fare questo è un titolo importante il turismo vede nero presenze calate del 15 per cento in dieci anni il gazzettino dà conto del convegno online che si è svolgito ieri sera promosso col solito entusiasmo dagli artigiani di belluno da confartigianato belluno da claudia scarzanella per cercare un po di smuovere le acque perché siamo tutti presi da questo discorso della pandemia e si rischia di non pensare al futuro e gli artigiani sono molto attivi in questo senso falcade prepara la pista per il fondo cortina via i lavori della cabino via case di riposo a pieve dieci decessi cortina migliora gli amministratori lanciano l'allarme personale contagiato servono assunzioni ecco i numeri sono veramente impressionanti anche ieri dei tre dei quattro decessi per covid riguardavano ospiti di case di riposo sembra non esserci fine al dramma delle residenze per anziani messi a dura prova dalla seconda ondata della pandemia di questo stiamo parlando dai focolai di auronzo con 58 positivi su 66 ospiti limana 38 casi passando per l'ex fazzoler di pieve di cadore si intende dove si sono registrati ormai dieci morti il grido d'allarme che si alza dalle case di riposo del distretto di belluno è anche quello relativo alla mancanza di personale questa è la situazione questa è la situazione allora io con questo mi fermo oggi c'è il bel sole godiamocelo noi che possiamo andare in giro perché siamo confermati in area gialla però dobbiamo farlo con tutte le attenzioni rimbalziamo anche da qui l'appello di zaia se non servisse se non bastasse la voce nostra dell'amico del popolo siamo prudenti perché gli ospedali sono pieni le cure normali sono tutte sospese dobbiamo tornare presto a poter garantire le cure a tutti quanti quindi lo possiamo fare solo se riusciamo a invertire la tendenza e a far calare il numero dei ricoverati che sono sempre persone gravi che non hanno possibilità di essere curate a casa per le loro condizioni ricordiamocelo e ricordiamolo a chi dice che non è così ciao a tutti buona giornata grazie